Ciao ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di Professione Chitarrista, la mia rubrica dedicata al mondo della chitarra. Oggi puntata molto particolare, non l'ho mai fatto, ma voglio parlarvi di un libro di un mio amico, Mimmo Langella. Pentatonic, Piromania. Voglio iniziare subito dicendo che questa è una recensione molto spontanea, sincera, veritiera come faccio sempre e che ho voluto fare, visto l'amicizia che mi lega, con Mimmo Langella, l'autore del libro. Conobbi Mimmo quasi vent'anni fa, quando studiavo al mitico Guitar Cup, un centro di studio a Roma di perfezionamento, dove giravano molti istruttori diplomati al GIT, uno fra tutti il grandissimo Gianfranco Diletti, e che mi ha dato tanto in quegli anni. Mimmo lo conobbi proprio lì, simpaticissimo, napoletano, verace dal grande cuore, i cui insegnamenti mi sono serviti tantissimo. Grazie Mimmo. Faranno anni che non ci vedevamo, per cui l'altra sera sono andato al suo concerto qui a Roma e mi ha regalato una copia del suo nuovo metodo. Edito da fingerpicking.net, è un manuale molto snello, sono una trentina di pagine circa, ed è tutto improntato sullo studio della pentatonica. Questo manuale prende in considerazione un breve aspetto dello studio della scala pentatonica. È un metodo quindi che indica la strada a chi vuole iniziare a studiare la pentatonica, a muoversi lungo tutto il manico e creare i propri fraseggi. La filosofia è un po' quella dei manuali americani degli anni Ottanta, brevi, snelli, concisi, dietro i quali c'è la mente geniale del grandissimo Tom Mock. Il manuale è diviso in due parti, nella prima parte imparerai tutti i cinque box della pentatonica, e soprattutto imparerai a muoverti facilmente da un box all'altro, così da avere la conoscenza completa della tastiera. Nella seconda parte del metodo approfonderai ancora di più la visualizzazione orizzontale delle scale, quindi non più racchiuse in un box, e il movimento verrà sfruttato attraverso dei pattern melodici, dei pattern che poi serviranno per costruire delle frasi melodiche più articolate. Quindi lo scopo di questo libro non è soltanto imparare la scala pentatonica, ma connettere tutti i vari schemi attraverso dei pattern melodici che serviranno poi a migliorare e ad aumentare il tuo vocabolario solistico. La cosa che mi ha colpito è stato l'utilizzo del QR code, che una volta inquadrato ci manda direttamente sul sito per vedere l'esempio suonato direttamente dall'autore. Mi sono veramente divertito a sfogliare questo libro, ho suonato tutti gli esempi e vale la pena l'acquisto. Costa circa 12 euro su Amazon, vi lascio il link in descrizione, e se volete potete lasciare un commento direttamente qui sotto, oppure contattare l'autore sul suo sito www.mimolangella.it Mimo è anche presente nel mio gruppo Facebook Professione Chitarrista, vi lascio il link in descrizione se volete iscrivervi, così ci può essere anche uno scambio, anche più diretto con l'autore. E mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, cliccate mi piace, doppio mi piace, condividete il video con gli amici, iscrivetevi al mio canale YouTube, stiamo raggiungendo i 6.000 iscritti, grazie a tutti, cliccate il pulsante qui sotto e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle prossime pubblicazioni. Bene, questa è la mia prima video recensione di un metodo di chitarra che non sia il mio, sono contento, in bocca al lupo, in bocca al lupo a Mimmo, in bocca al lupo a voi. Ciao ragazzi, buona musica!